Si potenziano i servizi di intervento domiciliare a favore delle persone seguite dal centro oncologico dell'azienda sanitaria, grazie all'intervento della Fondazione CR Trieste, che si è fatta promotrice della donazione di un automobile. Oggi nel comprensorio dell'ex OPP c'è stata la consegna delle chiavi dell'auto alla presenza dei vertici delle realtà coinvolte e degli operatori che svolgono in prima persona questo servizio. La Fondazione riserva varie risorse per quel che riguarda l'assistenza, diciamo, questo è in un settore particolare ma diciamo gli importi erogati sono rilevanti proprio perché a giudizio della Fondazione è rilevante la necessità della popolazione in questi campi. La gestione di determinate malattie che vengono chiamate in genere cure palliative nel senso di interventi atti al contenimento dei sintomi e la gestione migliore della malattia stessa viene svolta prevalentemente a domicilio qualora vi sia una situazione idonea attraverso l'integrazione fra l'equip sanitaria e la rete della famiglia. L'assistenza domiciliare che noi facciamo per i pazienti oncologici è importante perché è relativa a quelle persone in cui la malattia è diventata cronica e probabilmente non hanno più bisogno di interventi acuti ma hanno bisogno di essere seguiti per tutto il loro percorso vicino ai loro familiari, vicino ai loro cari, nel loro ambiente con la massima assistenza continuativa possibile e questo viene effettuato grazie agli operatori di questo servizio che sono sempre disponibili in congiunzione con i distretti sanitari, con l'attività dei medici di base quindi non lavora da solo il servizio ma è una rete proprio per agevolare la permanenza a domicilio delle persone che hanno effettivamente bisogno di assistenza.